Vogliamo parlare di Napoli? Volevo venire con un piccolo segno di lutto. Napoli è una cosa pazzesca, no? Una pazzesca. De magistris. Hai sentito bene? De magistris. Per carità, tutti gli avversari vanno rispettati, se poi uno prende il 64% a Napoli e diventa il sindaco, bisogna metterlo alla prova. Noi rispettiamo chi perde, figuriamoci se non rispettiamo anche chi vince. Chi vince ha un carisma, una unzione democratica, diceva François Mitterrand. L'unzione démocratique. De magistris se l'è conquistata. Però anche lì, ragazzi, ma come? Era la città campione di un nuovo modo di governare, c'era la crisi del bassolinismo, un sindaco, la Iervolino Russo, o Russo Iervolino, non ho mai capito bene come si deve pronunciare il suo cognome, insomma, persona rispettabilissima, di età veneranda, con una lunga esperienza politica nella democrazia cristiana e poi nel centro-sinistra, ma non proprio una figura carismatica. e c'era un fallimento di governo evidente del sistema di potere. Bene, che è successo? È successo che anche lì un outsider, questa è la cosa che mi impressiona di più e sulla quale vi invito a riflettere, un outsider, uno che viene da fuori, con una storia alle spalle veramente, ecco, al contrario di Pisapia, che poi è un garantista, che è uno che ha presentato una legge magnifica per togliere quella vergogna, quello brobrio che è il concorso esterno in mafia, che è un reato vergognoso, che viene gestito giurisprudenzialmente per fare politica in Italia. Ecco, però, insomma, le magistris, così, insomma, era un magistrato televisivo, cioè la specie di animale politico-civile più intollerabile, ai miei occhi, che esista al mondo. Un magistrato che fa delle inchieste come se fosse un anchorman. Dice, questo qui, probabilmente colpevole, arriveremo ad alti livelli istituzionali, eccetera, e magari in combinazione con il giovane figlio di Ciancimino, detto il pataccaro, va da Santoro e fa i suoi numeri di mala giustizia. Hai diventato sindaco di Napoli, con il 64% dei voti, ragazzi. Una tragedia, su, un disastro, vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Perché se non lo vogliamo dire, non diciamolo. Vabbè, sono state elezioni amministrative, pazienza. E invece no, è andata proprio così, un disastro. Allora, però, non è che bisogna fermarsi molto su questo disastro, bisogna riflettere ancora su un punto e poi vedere come reagire. Il punto è, insomma, come ci siamo arrivati a questo disastro? E lì nasce il guaio, per cui abbiamo pensato che fosse necessario riunirci qui. E ringraziamo tutti coloro che sono venuti, mi hanno detto che c'è il capogruppo alla Camera, Cicchitto, vedo il mio caro amico Denis Verdini, Triunviro, Ruggero Guarini, il professor Francesco Forte, il maestro Bortolotto, vedo Gustavo Selva, Daniela Santanchè, sulla quale conto molto, il ministro Brunetta, Renato Brunetta, è un'epoca importante per i ministri economici. Ecco, Daniela, perché si fanno vertici, più non posso, anche notturni, eccetera, per ridurre le tasse, vedremo anche questo problema. Come siamo arrivati alla sconfitta? Male. Perché ci siamo arrivati male? Non perché vi prego, il partito non è radicato nel territorio. Frase inutile. Sì, la Lega un po' di più perché ha l'aggregazione territorialista, il PD perché ha la vecchia tradizione comunista e perché è un partito collegato alla rete dei sindacati. E poi, certo, nelle regioni, esperienze territoriali più fortunate, meno fortunate, ma io dico sempre, il problema di questa parte d'Italia, che a noi interessa non rappresentare, per carità di Dio, ma, insomma, con la quale ci piace interloquire per dire la nostra, perché bene o male ne facciamo parte, ci siamo immedesimati in un fenomeno, no, travolgente, rivoluzionario, che ha cambiato le cose, insomma, lì il problema non è mai qualcosa, il problema è sempre qualcuno, cioè Berlusconi è l'alfa e l'omega di quello che è successo negli ultimi 17 anni in questa parte d'Italia. E per forza così. Si è inventato la nuova politica o l'antipolitica che diventava nuova politica, si è inventato un partito, si è inventato un predellino quando era in crisi e era riuscito a fare una cosa di mostruosa efficienza vincere le elezioni del 2008 con un partito nuovo di Zecca, ha fatto le cose più smaglianti, interessanti, ha rilanciato il tema delle libertà, lo ha praticato anche personalmente da uomo privato, diciamo con qualche imprudenza, ma di questo abbiamo parlato dal verme a sufficienza. E poi noi non siamo violatori della privacy, siamo per il giusto processo e non facciamo le sottili distinzioni filosofiche che fanno alcuni a sinistra tra diciamo eroi filosofici e indegni molestatori del corpo delle donne, quando la verità è precisamente il contrario, Berlusconi ha fatto delle feste private, è stato molestato nella sua privacy da giudici a Caniti e invece in altri casi gli eroi filosofici gli eroi filosofici si sono quantomeno anche se naturalmente è il processo che dovrà stabilire la loro responsabilità e si sono dovuti accollare delle accuse precise che non hanno niente a che vedere con la privacy che riguardano un rapporto profondamente malato con le donne, questi uomini potenti della sinistra mondiale, barri barri